La compagnia teatrale QN Quintelemento è un'associazione di promozione sociale costituita a Cremona nel mese di settembre del 2010. L'associazione è nata su iniziativa di un gruppo di persone accomunate da una precedente esperienza di lavoro teatrale a Milano e successivamente si è allargata ad altri componenti. Le diverse e precedenti attività marcano in modo originale le prospettive di ricerca e gli obiettivi dell'associazione. Lo scopo principale, infatti, è di realizzare uno stimolante amalgama fra il linguaggio teatrale e le tecniche cinematografiche, ma sempre con il focus nel teatro. Questa esperienza di videoteatro vuole quindi proporre un modo diverso di vivere e di intendere la suggestiva intensità della sperimentazione e della creazione artistica. L'associazione QN Quintelemento, nel corso del tempo, ha ampliato le sue attività, al di là del lavoro strettamente teatrale. Si è infatti specializzata anche in due altri ambiti operativi. La realizzazione di servizi filmati su manifestazioni ed eventi artistici, culturali, sociali e formativi. E la gestione dei social media, anche nel contesto di progetti europei. La nostra produzione video è disponibile sul nostro canale di YouTube. In totale 321 alla fine di aprile 2020. Dall'anno 2011, QN Quintelemento è affiliata alla Wilt, Unione Italiana Libero Teatro, la federazione nazionale delle compagnie teatrali amatoriali. Circa 930 per oltre 16.000 soci. Dal 2014, uno dei nostri soci fondatori, Paolo Ascani, è il vice presidente nazionale della Wilt e ne è divenuto presidente nazionale nel settembre del 2019. Dal novembre del 2017, l'associazione dispone di una nuova sede in Cremona, il Centro Culturale Next, gestito dalla presidente e direttrice artistica Francesca Rizzi e dal responsabile operativo Danio Belloni. Il centro è particolarmente adatto per laboratori e performance teatrali, sempre nel segno di una costante ricerca di nuove modalità artistiche. Queste attività di sperimentazione e studio costituiscono il programma che abbiamo denominato Progetto Next Theatre. Il punto di partenza è stato il laboratorio teatrale organizzato con Cathy Marchand, grande attrice del Living Theatre, gruppo storico del nuovo teatro del Novecento. Dal 2018, il nostro centro è inserito nel circuito nazionale delle residenze creative della Wilt, una rete di spazi artistici e teatrali per collaborazioni, scambi e rapporti fra compagnie e associazioni culturali.